La formula magica del Salvemini Casa Progetto Futuro rimane sempre. Aggiungiamo altre due parole, qualità e educazione. Per questo il Salvemini garantisce che come a casa propria si sia educati ospitali, accoglienti e si obbedisca alle regole. In occasione dello stanziamento del PNRR è stato possibile pensare con i finanziamenti a rivoluzionare sia l'estetica della scuola, ma più che l'estetica, la sostanza e il comportamento dei ragazzi che non si spostano soltanto da una aula all'altra, ma si educano a vivere tutta la scuola responsabilmente e ad andare in ambienti, in aule disciplinari, ambienti laboratorio, dove possano non solo apprendere ma anche studiare insieme ai docenti e vivere la scuola da protagonisti. Io li aspetto negli Open Day per dimostrare che i cambiamenti, i miglioramenti non sono soltanto estetici, di colori o di movimenti degli studenti, ma sono sostanziali, cioè la scuola deve diventare un laboratorio di apprendimento e di vita, se possibile. Per vedere come il Salvemini vive, una scuola moderna, contemporanea, differente, di qualità, di educazione, ma anche di profondo, profondissimo cambiamento, perché i vostri figli diventino davvero protagonisti del loro futuro, sempre.